Identificare con quel delinquente, capito? Senti Umberto, sono l'upe? Io con mia figlia avevo un rapporto anarchico, anarchico, sai? Che vuol dire? Libertà, libero. Sì, grazie, scusate. Lui, lui, lui. Sei deluso, Umberto? Sei deluso, sei deluso, Umberto? Poco, 18 anni, scusate. No, no, 18 anni sono giusti, deve marcire in galera.